Non abbiamo cacciato via nessuno, è quanto affermato ieri in consiglio comunale dalla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese nell'intervento sulla situazione politica dopo la nomina della nuova giunta. La Sise, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato una serie di debiti fuori bilancio, il conferimento della cittadinanza onorale al cavaliere Adriano Ferraiolo ed ha certificato l'ingresso in consiglio di Michele Alessio ed Antonietta Petrosino. A due anni dall'inizio di questa legislatura avevamo bisogno di rivedere alcuni meccanismi che ci consentissero di andare avanti in modo più spedito e compatto. La giunta comunale era nata su presupposti politici non più attuali e dovevamo rivederli perché essa fosse al meglio lo specchio della complessità e della varie carietà della coalizione della maggioranza. Lo abbiamo fatto. Dispiace quando qualcuno con il quale ha riavolato per lungo tempo, fianco a fianco, va via. Dispiace veramente. Non ho condiviso la scelta di alcuni assessori di dimettersi e lo sanno tutti. nessuno ha cacciato via qualcuno. L'unica persona che avevamo rimosso era l'assessore di Forza Italia più di un anno fa, ma qui nessuno ha cacciato niente.